In febbraio ci sono novità sulla data? Ieri abbiamo fatto una riunione molto proficua al Ministero delle Infrastrutture, con il Ministro Giovannini, con tutti i vertici del Ministero delle Ferrovie dello Stato, dell'ANAS. Stiamo indirizzando dei finanziamenti molto importanti sulla città e sull'area metropolitana. Napoli finalmente sta ai tavoli giusti e questo significa portare risorse a Napoli per un grande investimento infrastrutturale di cui la città ha bisogno. Sono molto soddisfatto, è stato un incontro molto positivo.